Al centro la micro-impresa, importante vetrina per promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio. Dal 30 novembre all'8 dicembre la Regione Abruzzo, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara e la Camera di Commercio della Gran Sasso, parteciperà alla 28esima edizione dell'Artigiano in Fiera. Evento in programma tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 presso Fiera Milano-Rò. Dunque il brand Abruzzo in vetrina, grazie anche all'artigianato. Il sottosegretario regionale con delega al turismo, Daniele Damario. Assolutamente sì, partecipiamo a questa manifestazione Artigiani in Fiera che in una settimana fa circa un milione di visitatori e quindi un momento importante per l'Abruzzo per mettersi in vetrina. Ovviamente oltre ai prodotti dell'artigianato ci saranno anche quelli agricoli, quindi insomma ci presentiamo come sistema Abruzzo con una vetrina per l'artigianato, per l'agricoltura e soprattutto per il turismo. E all'interno del padiglione ci sarà uno stand proprio turistico, quindi personale dell'assessorato al turismo perché l'Abruzzo ha tutto quello che serve per far felice un turista ma anche tutto quello che serve per mettere in mostra i propri prodotti di punta. Presenti 55 imprese abruzzesi provenienti dalle quattro province avranno la possibilità di esporre e vendere i propri prodotti, specialità enogastronomiche, manufatti artigianali e oggetti d'arredo, ma anche gioielli, cosmetica, moda e accessori. Sarà inoltre allestito un corner dedicato allo street food che già nelle scorse edizioni aveva riscosso grande successo dove i visitatori potranno scoprire e assaporare le autentiche bontà abruzzesi. L'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca. Possiamo proporre quelli che secondo noi sono e oggi lo sono ancora di più asset strategici, agricoltura, turismo e artigianato perché raccontano della bellezza dell'Abruzzo, perché raccontano della originalità dei suoi prodotti, perché raccontano e narrano la storia dei luoghi e dei territori abruzzesi. Ci saranno i grandi produttori dell'agri-food, quindi pensate al tartufo, pensate all'olio, pensate alle olive e poi ci sarà la promozione dei nostri territori, delle nostre montagne, del nostro mare, delle nostre spiagge ma anche di quei luoghi incontaminati ed originali di cui si sente tanto il bisogno a livello mondiale.